Ora è tutto da dimostrare ragazzi, queste sono parole. Dopo aver svelato alcuni ospiti come l'ex capo della polizia e sottosegretario di stato Franco Gabrielli ed aver annunciato l'aumento delle sedi nel centro storico ma anche all'Arzilla e a Fosso Seiore, il direttore di Passaggi Festival Giovanni Belfiori torna a raccontarci della prossima edizione dell'evento che si svolgerà a Fano dal 20 al 26 giugno. Il decennale, assicura, sarà ricco di sorprese. C'è da tempo questa idea di espandersi nella regione, centrerete l'obiettivo quest'anno? Purtroppo no, per il solito problema è mancanza di soldi. Noi facciamo una gran fatica, abbiamo chiuso in passivo l'anno scorso e quindi quando uno chiude in passivo vuol dire che l'anno dopo devi andare a pareggio, non ci sono cavoli. Inoltre dobbiamo anche cercare di far fronte a un'edizione che sarà ricca perché in qualche modo vogliamo festeggiare i nostri dieci anni e quindi ci saranno anche dei segni delle fotografie, altri contenuti della città che ricorderanno gli eventi dal 2013 a oggi. È anche un modo di, come dire, gratificare lo staff che ha lavorato per tanto tempo a Passaggi Festival. Però ci sarà una sorpresa, ancora è da definire, cioè ci sarà probabilmente un allungamento di Passaggi Festival, nel senso che inizierà qualche giorno prima perché non è improbabile che ci si sposti anche in un altro comune. E potrebbe essere un'idea perché noi abbiamo comunque diversi comuni della Vallata che guardano a Fano con attenzione e ci potrebbe essere uno scambio interessante. Però state lavorando anche su un'altra chicca, un'esclusiva? Sì, è vero, è vero. Come sempre Passaggi Festival non soltanto propone presentazioni librarie che sono naturalmente il fulcro dell'attività, propone anche laboratori, propone conversazioni scientifiche, quelle alla Sala da Te e Lucelli in Belverde che hanno un loro pubblico ormai fedelissimo, ma propone anche delle mostre che sono curate da Paola Gennari e quest'anno c'è una mostra molto bella, molto particolare. E sono ormai due anni, svela Belfiore, che cerco di organizzarla perché è una mostra che stiamo costruendo ed allestendo in autonomia. Cioè non è che abbiamo preso un format di mostra e lo abbiamo portato a Fano, ce lo stiamo inventando. È una mostra molto particolare, non sono quadri, non sono sculture, non è arte figurativa, sono libri. Libri di una biblioteca molto particolare, è una biblioteca di famiglia, adesso non la racconto per non farla lunga, che ha una storia interessante, affascinante, a volte anche misteriosa, è la biblioteca della famiglia del direttore dell'ANSA Luigi Contu. In questa biblioteca, ha proseguito il direttore, sono stati ritrovati dei materiali straordinari. Tra l'altro questa mostra ha il patrocinio ufficiale dell'Ambasciata di Francia. Perché ci sono dei carteggi originali tra il nonno del direttore dell'ANSA, che si chiamava Raffaele Contu, Giuseppe Ungaretti e Paul Valery. Non solo, ma scartabellando in questa biblioteca, che è immensa, sono migliaia e migliaia di volumi, è stato trovato un inedito, una stesura inedita di Giuseppe Ungaretti, di uno degli inni Giuseppe Ungaretti, che sarà portato a Fano in esposizione alla Chiesa di Sant'Arcangelo. Quindi avremo davvero anche una chicca molto particolare. Certo, ripeto, non sono quadri, è un approccio più difficile visitare una mostra di libri, anziché di arti figurative, però noi ci proviamo.